Buonasera, in primo piano la politica con la vicenda dei vitalizi alla Regione Lazio. Il Movimento 5 Stelle, durante la diretta sulla web tv, come promesso in campagna elettorale, ha annunciato che si ridurrà lo stipendio a 2.700 euro al mese netti. E domani, in Commissione Bilancio, inizia la battaglia sui vitalizi. Il Movimento vuole abolirli anche per i consiglieri della passata legislatura. I particolari da Perla di Puppa. Dopo una campagna elettorale tutta giocata sui costi della politica, è venuto il momento dei fatti. Oggi, in diretta sulla web tv La Cosa, i sette consiglieri laziali del Movimento 5 Stelle hanno mostrato la loro busta paga e quanto ne rimarrà dopo l'operazione di autoriduzione dello stipendio, Restitution Day, come l'hanno chiamata. Al momento, un consigliere regionale del Lazio percepisce tra i 10.000 e gli 11.000 euro al mese, ha spiegato Gianluca Perilli. Noi tratterremo solo 5.000 euro lordi, netti sono circa 2.700 euro. Qui vanno aggiunte le spese rendicontate, come quelle per il biglietto del treno, ad esempio. Il resto, proseguito Perilli, lo verseremo in un conto aperto presso la Banca Etica. I calcoli dei 5 Stelle si riferiscono però alla busta paga che i consiglieri percepiscono attualmente, ma che cambierà non appena entrerà in vigore il cosiddetto collegato, la proposta di legge numero 9 del 16 aprile scorso, con la quale Zingaretti ha imposto un taglio a tutte le indennità di funzione e alle indennità aggiuntive, compresi i rimborsi chilometrici. Lo stipendio di un consigliere scenderà così a 6.800 euro. Ma proprio su questa proposta di legge i 5 Stelle sono tornati alla carica. Il collegato prevede infatti l'abolizione dei vitalizi. I grillini vogliono di più, chiedono che siano azzerati anche per i consiglieri della passata legislatura quella degli scandali di Maruccio e Fiorito. C'è un problema però per gli ex membri della Pisana, si tratta di un diritto acquisito e di contributi pagati. I ricorsi sono assicurati. L'assessore al bilancio, Alessandra Sartora, comunque non chiude la porta alla richiesta dei 5 Stelle, purché non ci siano problemi legali, dice. La battaglia sui vitalizi comincia domani in Commissione Bilancio.